Industria, lavoro e transizione ecologica. Entro il 2030 l'85% delle batterie dovrà essere prodotto in Europa. E' uno degli obiettivi indicati nella bozza del piano industriale Net Zero che sarà presentato a Bruxelles il 14 marzo. Giampiero Scarpati è andato nel primo stabilimento italiano di batterie a litio. Vediamo. La transizione ecologica passa anche per Teverola in provincia di Caserta. Siamo nella prima gigafactory in Italia che produce batterie a litio, depositi di energia ad alta efficienza utilizzati dalle grandi aziende energetiche per fare le cosiddette reti intelligenti, per i mezzi industriali ma anche per il trasporto pubblico e per le abitazioni, per chi per esempio deve accumulare l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico. Qui c'è l'LFP, litio ferrofosfato, che è la materia prima per realizzare l'elettrodo positivo per fare la batteria. Il litio arriva da Taiwan ma, come ci dice Vitali, è solo il lievito per fare il pane. La farina è una tecnologia tutta italiana. Le nostre batterie sono prodotte con materie prime sostenibili, come il litio ferrofosfato, che non presenta metalli inquinanti o materie inquinanti come il nickel e copalto. Questo è il prodotto finale, il modulo per una batteria a litio ed è una batteria completamente riciclabile. Grazie a un progetto di oltre 400 milioni di euro approvato dall'Unione Europea, entro il 2026 la capacità del sito Campano aumenterà di 20 volte. I dipendenti passeranno dai 130 attuali a oltre 700. Noi abbiamo guardato al futuro, stiamo guardando al futuro, siamo convinti di poter portare l'Italia alla transizione energetica con un ruolo importante.